Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Buongiorno a tutti. Vi proviamo di continuare a recrire un'atmosfera di gloria, amore e rilascio. Anche in situazioni più difficili e stressanti, è di portare il comforzo alle pezzi più importanti per incontrare all'ospedale. La scelta e la contribuzione che ti dite alla nostra associazione sono davvero importanti perché ci permettono di pulire il nostro obiettivo ancora più entusiasticamente. Per questo motivo, tutti noi clown, vorremmo ringraziare per il vostro grande supporto e per l'attenzione che pagate per noi oggi. Ora vorremmo dare un piccolo presento a voi. Voi, per favore. Un momento. Questo è il obiettivo simbolo che noi clown portiamo ai pazienti che ci troviamo nel mondo hospital. E ora, vogliamo davvero dare un simbolo della nostra gratitudine per tutto ciò che stai facendo. Grazie di nuovo a tutti e vi auguro un buon tempo. Grazie. 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 Siete felici ragazzi? Siamo felici. Grazie a tutti quelli che mi conoscono e anche a quelli che non mi conoscono. Grazie! Grazie a tutti. Grazie a tutti.